Musica Bella a tutte scimmie e volute sono Rocciaco90 e bentornati in questa nuova puntata di The Walking Dead precisamente la terza parte e iniziamo subito con il let's play premendo A vi ricordo che eravamo rimasti dall'aguato subito da gente con le frecce mi sa che avevano un accordo con le persone della fattoria allora vedremo perché mi sa che E... E tu ok? Bandits? Here? On nostro propria? Oh mio Dio! What happened to you, sweetheart? It was those bastards in the woods, mama. Yeah, I'll be alright once it's out. God damn it hurts. Hey y'all! Mark! Oh my God! What happened? He got shot with an arrow! Christ! Are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just... pull it out. Oh no, honey! Come on! Brenda's got you! Come on inside now! Well, we'll have you all sorted out. Well, you must be the best man. What kind of shit is this? E' questo che si incavola? Bandits, I guess. I think it was Zim that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farm hands. We were able to get them to stop by making a deal. What do you do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it! Ah, è saltato l'accordo tra loro. Ecco perché. I don't know when she died. It was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor air. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Infatti dovremmo cercare di farli fuori, sono un pericolo per il gruppo. This place isn't safe, we can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor air. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, call your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm going to head out and help Dan deal with these bandits. You guys, to try to make friends with Andy and Brenda. Come si può trattare con questi bandit camp? Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Mentre affascinante. Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had them stay back. I still don't think we should be trying to stay here. And someone's got to watch the motor in until we get back. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. Ah, c'è uno dippare l'altarino. Swing! I love swings! Just like at my treehouse! Come on, Doug! Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah! Thanks. Anytime. We're looking out for you. Volevo aggiustarla io, l'altarino, però mi ha anticipato. Ok, andiamoci di qua, vediamo. Ah, ma questo siamo già stati. Andiamo, questo dovrebbe essere il generatore. Sì, infatti, il generatore di corrente elettrica. Andiamo un po' di qui. La botanica di benzino. Molto pericolosa, secondo me. Si potrebbe incendiare. Ok, apriamo. Andiamoci di... Andiamo cos'è. Oh, abbiamo trovato... Lele. Lele, oh, my God, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? That'll be fine. I've seen guys go through words. How could you all bring us to this place? How do you feel about leaving the motor air? It's a welcome change of scenery. Infatti, sembrava molto... Molto migliore questo posto, però non ci possiamo fidare di queste persone. Quindi si è arrivati da nessuna parte. Ehm, posso parlare con te in private for a second? Ok. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. That's the thing that you like that, too? Look, my dad can be an ass sometimes. I know that. But he's not a bad guy. Just... He's got a lot of pain. He's been through so much. And lost... Pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Imagine, like any father. I think it's a good idea. Think our little arrangement with them was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, now, let's not be hasty. I take it you and Kenny didn't exactly make up on the way here. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything, but gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Hey, thanks for backing me up this morning at the motel. Well, I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Well, hope doesn't do any good if we're all dead. I'm focused on keeping us a while. We're going to need to learn how to maintain her, we don't stay here. Eh, sì, infatti, we're going to work if we're here. Ah, no, again? No, we're here. The door is finished. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in ships. Open. If there's not enough room in the house for all of us, at least a few of us could camp out here in ships. Però c'era la mano, pensavo che aprisse la porta. Andiamo qui. Vale di filo. Un sacco di filo. Ma va. Possiamo barricarci con delfino, ragazzi. Andiamo di qua. Ho visto tutto, sì, qui. Niente. Ho abbiamo già visto. Apriamo, andiamo all'altro lato. Cos'è qua? Beh. Ah, è quello di... Ok. Andiamo di qui. Vediamo in casa chi c'è. Ah, ci sono quei due davanti alla porta. Andiamo. come ti senti? guarda, mi sono davvero scusate che hai quasi scusato dovremmo raccomandci come vero dovremmo dirvi come vero non c'era tu vedi quello che hanno fatto con te, amico nessuno è sicuro qui fino a che noi iniziare a combattere ma come? i due di noi dovremmo andare a fare qualcosa di reconti e poi ci siamo iniziati a fare qualcosa di reconti hell, sì chi sono queste persone in the woods? non lo sappiamo credo che alcuni di loro lavoravano in big box save lots sì in ogni modo, i loro sono scusate e si fredano quando si fredano quindi sei pronto per andare fuori e trovare loro campi? non sarà una buona opportunità di sapere un po' di più di cosa ci siamo controlli facciamo guardare qui e guardare il porto ricordate, stiamo solo facendo reconti per ora non è vero di essere morti non è vero di essere morti ci hanno dato un fucile ci hanno dato un fucile va bene è preoccupata per noi ok vediamo non è vero di essere qui non è vero non è vero non è vero non è vero ci hanno fatto non è vero non è vero ma non è vero Stai in guardia. Stai in guardia. Guarda il mio baglio, Lee. Spero che guarda la tenda. Hmm, quella tenda... ...nasconde qualcosa, secondo me. O forse no? No, non nasconde nulla. Clear. Questo camp è troppo piccolo. Non può essere la base principale. E' quello che ero pensato. Guarda qui, comunque. Probabilmente c'è qualcosa di qui che hanno usato da noi. Diamo il bollito ora. Solo l'acqua. C'è solo dell'acqua. Andiamo qui in una cassa. Qui. Molto. Perché l'ha spostato. ... ... ... ... ... ... ... C'è il bambino. c'è qualcosa lì telecomando cos'è? un videocamera la batteria è morta oh, bene che altro abbiamo qui? vediamo se possiamo trovare qualcosa di utile e poi andare a riuscire vediamo che hai un po' troppo tempo secondo me sei un hunter? no, ma lilly ci guarda tutti in un seguito di trattamento lilly, eh? sembra che lei sta guidando questa democrazia di vostra cosa abbiamo qui? nient'altro cosa? sembra che qualcuno ci ha benvenuto di recente qui ok, ci siamo passati una tannica di benzina nient'altro che fuori c***o nient'altro nient'altro l'abbiamo controllato andiamo di qua non mi fa andare no cos'altro? ho saltato bombola bottiglie tenda no no non so cos'altro esaminare una tenda una tenda un peluche c***o 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 era lei che ci sparava c***o 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 un uomo c***o 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 un uomo che partano c***o 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 quindi li ucciso e sto qui fino a quando mi arriva una volta o l'altra magari non mi senti la prima volta quando ti ho chiesto metti i tuoi uccidini pensi che non ti ucciso? prendo questo qui crossbow e mettere un bellissimo arro proprio nel tuo occhio e nel tuo cervello non sei ucciso 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 tutti ucciso 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 e la madre di e la madonna ahi ah non essere stupido che aspettava oh guardate grazie grazie, credo beh, è benvenuto credo è un giocato 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 quindi è tutto non ci sia una donna però però poteva ammazzarci poteva ammazzarci in questi casi di estrema sopravvivenza penso che sia l'unica soluzione uno dei tre doveva morire grazie a tutti Grazie.